Siracusa verso il 2 giugno, 75esimo anniversario della Fondazione della Repubblica. Fervono i preparativi per il 2 giugno in cui ricorrerà il 75esimo anniversario della Fondazione della Repubblica. Al significato di questa giornata del tricolore che ci rappresenta a tutti, la Prefettura di Siracusa ha dedicato l'approfondimento alla ricorrenza del 2 giugno che nel rispetto delle disposizioni connesse alla prevenzione della diffusione del virus SARS-CoV-2 anche a Siracusa si svolgeranno manifestazioni celebrative dell'importante festività nazionale. Il 2 giugno sarà all'insegna del bel tempo e a salvarlo è l'alta pressione che riuscirà a proteggere l'Italia dall'arrivo di un vortice ciclonico. Il Prefetto di Siracusa Giussi Scaduto nell'ambito dell'evento ha promosso con la collaborazione dei 21 comuni della provincia del Comando Marittimo Sicilia, delle Forze di Polizia, dei Vigili del Fuoco e del Comitato Regionale Sicilia dell'AMPAS una iniziativa che declini i valori fondanti della Repubblica e che esalti il pregnante significato di coesione sociale e istituzionale della giornata ancora più nell'attuale delicata fase storica connotata dalla perdurante emergenza sanitaria. La sobria cerimonia svolge a Siracusa nella frazione di Cassibile con inizio alle 9 con la deposizione di una corona dell'oro e l'alza bandiera presso il monumento ai caduti in piazza Don Antonio Saitta alla presenza delle sole autorità civili e militari secondo il protocollo istituzionale nel pieno rispetto delle vigenti disposizioni governative anti-Covid sulle cerimonie pubbliche. A seguire alle 9.30 presso il cortile dell'Istituto Falcone Borsellino di Cassibile i valori e i simboli della Repubblica saranno interpretati attraverso parole, immagini, sapori e suoni da giovani studenti e da professionisti dello spettacolo. Al luogo della cerimonia si accederà esclusivamente con invito al fine di rispettare la capienza massima dell'aria anche in tal caso nell'ottica di osservare le previsioni vigenti in materia di contenimento del contagio. Particolarmente significativo sarà la partecipazione degli studenti dell'Istituto Comprensivo Falcone Borsellino del liceo artistico Gaggini e dell'Istituto Alberghiero Federico II di Svevia i quali a testimonianza del senso di appartenenza alla comunità nazionale e del patto virtuoso tra generazioni daranno lettura del tradizionale messaggio del Presidente della Repubblica e forniranno un contributo artistico sul tema dell'unità nazionale. La rappresentazione della Repubblica, secondo diverse espressioni artistiche, sarà inoltre completata dall'intervento dei professionisti dello spettacolo e del giornalismo Salvatore De Mola, Franz Cantalupo, Riccardo Leonelli, Mario Incudine e Isabella Di Bartola. I 21 sindaci hanno inoltre voluto dedicare ai cittadini della provincia due brevi video che saranno proiettati durante la cerimonia. Nel corso delle celebrazioni saranno infine consegnate anche le onoreficenze al merito della Repubblica Italiana rilasciate dal Capo dello Stato per ricompensare benemerenze acquisite verso la nazione nel campo delle lettere, delle arti, dell'economia e nel disimpegno di pubbliche cariche di attività svolte a fine sociale, filantropici e umanitari, nonché per lunghi e segnalati servizi nelle carriere civili e militari. In particolare il comandante provinciale della Guardia di Finanza di Siracusa, colonnello Luca De Simone, sarà insegnato dell'onoreficenza di ufficiale al merito della Repubblica Italiana. L'onoreficenza di cavaliere sarà invece consegnata all'architetto Biagio Bellassai, dirigente della protezione civile della regione Sicilia, al dottore Gianluca Angelucci, tenente colonnello dell'aeronautica militare, al geometra Armando Martinez, funzionario direttivo presso il Dipartimento regionale della protezione civile, al geometra Giuseppe Latina, impegnato come impiegato tecnico presso il Dipartimento regionale della protezione civile, alla signora Esther Castaldo, coordinatrice infermeristica, alla dottoressa Rossana Fazina, infermiere collaboratore professionale, alla signora Lucrezia Iannizzotto, infermiere collaboratore professionale, alla signora Silvia Leone, infermiere collaboratore professionale, al signor Giuseppe Blandino, assistente tecnico specializzato. La partecipazione della cittadinanza sia pur da remoto sarà assicurata grazie alla diretta della cerimonia sui canali social dei comuni della provincia di Assostampa, grazie alla collaborazione della società di comunicazione APRES di Siracusa che ha curato anche la realizzazione del materiale videografico.